In cosa credono i musulmani? Parliamo della fede di un musulmano, cioè in che cosa crede un musulmano? Innanzitutto l'Islam è una religione rivelata. Cosa vuol dire religione rivelata? Vuol dire che si crede in un Dio che si è rivelato agli uomini, cioè si è mostrato, si è fatto conoscere. In questo caso si è rivelato attraverso un libro, il Corano. La fede di un musulmano può essere sintetizzata in questi sei punti. Credere in un unico Dio, Allah. Credere nell'esistenza degli angeli. Credere che il Corano sia la rivelazione di Dio. Credere che Mohammed, cioè Maometto, sia l'inviato e il profeta di Dio. Credere negli altri venticinque profeti ricordati nel Corano. E credere nell'ultimo giorno e nella vita ultima, cioè nell'esistenza dell'aldilà. Ora noi andremo a esaminare ognuno di questi punti. Innanzitutto, un musulmano crede in un unico Dio, Allah. Il termine Allah in arabo significa Dio. Vedete il termine Allah come viene scritto in arabo, nell'immagine, su sfondo blu, in bianco. E ricordo che l'arabo si legge, si scrive da destra a sinistra. Ora, il termine Allah è la traslitterazione del termine Al-Ilah, che vuol dire il Dio o i Dio. Allah, quindi, non è il nome del Dio o dei musulmani, così come God, in inglese vuol dire semplicemente Dio. Il termine Allah in arabo vuol dire Dio. Infatti, anche gli arabi cristiani usano il termine Allah, cioè i cristiani di lingua araba chiamano Dio Allah, proprio perché Allah non è il nome del Dio dei musulmani, ma semplicemente in arabo Allah vuol dire Dio. Ora, considerate che i musulmani di lingua araba lo leggono con la H finale aspirata e molti musulmani aspirano anche la A iniziale. Bisogna anche ricordare che il termine Allah non è un'invenzione dei musulmani, in quanto al tempo di Maometto già c'era in Arabia un Dio chiamato Allah. Nell'Arabia pre-islamica, cioè nell'Arabia del VI-VII secolo d.C., le tribù arabe erano per lo più politeiste. C'era un panteon di divinità e la divinità principale era appunto chiamata Allah. Quindi il termine Allah non è un'invenzione dei musulmani, ma Allah era il nome che le tribù arabe politeiste davano alla divinità principale. Questa espressione, ormai divenuta famosa, Allah-u-Akbar, vuol dire proprio Dio è il più grande. Infatti, adesso vi faccio vedere come quando il Corano viene tradotto dalla lingua araba alla lingua italiana, alcuni autori lasciano invariato il termine Allah, altri invece lo traducono in Dio, in quanto appunto Allah vuol dire Dio. Guardate questa diapositiva. Ci sono quattro traduzioni del Corano dall'arabo italiano, anche se la seconda, quella di Pallavicini, è la traduzione non di tutto il Corano, ma soltanto di una sura. Comunque, vedete che le prime due traduzioni del Corano, quella di Piccardo e di Pallavicini, hanno lasciato il nome Allah, il nome di Allah, nel nome di Allah. Invece, nelle ultime due traduzioni del Corano, quella di Guzzetti e quella di Ziro Grandi, non c'è il termine Allah, ma c'è il termine Dio. Questo vi fa capire meglio che Allah semplicemente vuol dire Dio. Il messaggio principale del Corano è proprio, non c'è altro Dio che Allah, e questa è la dottrina fondamentale dell'Islam. Infatti l'Islam è un monoteismo assoluto. Il cristianesimo è un monoteismo trinitario, la differenza. Nel cristianesimo c'è la fede in un solo Dio, ma in tre persone, quindi si chiama monoteismo trinitario. Nell'Islam c'è la fede in un unico Dio, non c'è Padre, Figlio, Spirito Santo, quindi è un monoteismo assoluto. Nell'Islam c'è la fede in un Dio unico, cioè per i musulmani non esistono altre divinità al di fuori di Allah. Ma nell'Islam c'è anche la fede in un Dio che è uno, cioè per il musulmano non c'è divisione in lui, vuol dire che si esclude, come credono i cristiani ad esempio, che Dio sia la prima persona, la seconda, la terza persona. per i musulmani in Dio non è una trinità, come credono i cristiani. infatti se andiamo a leggere ad esempio la sura numero 5 del Corano, ricordo che i capitoli del Corano vengono chiamati sure, quindi sura 5 vuol dire capitolo 5, la sura 5 del Corano recita Certo, sono miscredenti quelli che dicono il Messia figlio di Maria è Dio, mentre invece il Messia ha detto O figli di Israele, adorate Dio mio e vostro Signore, chi adora altre divinità insieme a Dio, Dio gli chiuderà le porte del paradiso. Sono miscredenti quelli che dicono, in verità Dio è il terzo di tre, mentre invece non c'è altra divinità se non un Dio solo. Semplice, questi versetti dicono Dio non è una trinità, non c'è un uomo che è anche Dio, Gesù, quindi nell'Islam c'è la fede in un Dio unico e uno, quindi Dio per i musulmani non è una trinità. Due degli attributi o nomi di Dio più usati dai musulmani quando parlano di Allah sono Allah è il compassionevole, Allah è il misericordioso, quindi sono le caratteristiche principali diciamo di Dio. Infatti, il testo del Corano inizia proprio con questa invocazione, nel nome di Dio, clemente, misericordioso, è un'invocazione che si trova all'inizio di tutte le sure del Corano, tranne la numero 9. Guardate l'esempio, questa è la sura 112, appunto capitolo 112 del Corano. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso, quella che ho appena letto è una lode che appunto si trova non soltanto all'inizio del Corano ma all'inizio di tutte le sure, tranne una. E appunto mostra due attributi principali di Dio. Continuiamo a leggere questa sura. D. Egli Allah è unico, appunto abbiamo detto. Allah è l'assoluto, non ha generato, non è stato generato e nessuno è uguale a lui. Infatti, per i musulmani, nessuno è uguale a lui, è l'alterità di Dio, Dio è altro rispetto alle cose del mondo terreno. Bisogna ricordare che, secondo i musulmani, il peccato più grave consiste nel credere che qualcuno sia come Dio, o attribuire a Dio le caratteristiche delle creature. Quindi, per i musulmani, nessuno è come Dio. Come ci ha scritto in questa sura, Dio non è stato generato da nessuno, ma Dio è eterno. Dio è sempre esistito, non ha avuto inizio, non ha avuto l'esistenza da qualcun altro. Altri attributi di Dio, cioè altre caratteristiche di Dio, secondo i musulmani. Dio è il creatore del mondo, ha dato, cioè, l'esistenza a tutto ciò che esiste. Dio è onnipotente, può tutto, nulla è impossibile a Dio. Dio è trascendente, cioè, Dio è al di là di questo mondo materiale. Dio rimane, trascendente vuol dire Dio rimane inaccessibile all'uomo. L'uomo, per poter arrivare a Dio, deve riflettere sulle creature. Tra l'altro i musulmani non chiamano mai Dio padre, questa è un'intimità che c'è soltanto nel cristianesimo tra l'uomo e Dio. Nell'islam non c'è. Dio è asessuato. Beh, se Dio è un essere che non appartiene al mondo materiale, al mondo visibile, se è trascendente, allora è al di là dell'identità sessuale, non è né maschio né femmina. Continuando a parlare della fede di un musulmano in un unico Dio, bisogna anche parlare dei 99 nomi di Dio. Allah ha 99 nomi, o attributi, o caratteristiche. Dio, secondo i musulmani, è dotato di tutti gli attributi della perfezione ed è sprovvisto di tutti gli attributi dell'imperfezione. Ora, guardate questa immagine. Contiene i 99 nomi, beh, ho già detto nomi nel senso di attributi, di caratteristiche di Dio. Ecco, sulla destra, alcuni dei 99 nomi di Dio. L'Onnipresente, Dio è il Sapiente, è l'Amorevole, è il Maestoso, è il Suscitatore. Altri attributi di Dio, è il Misericordioso, è l'Eterno, è il Fedele, è il Creatore, è l'Uno. È il Paziente, Dio il Dolcissimo, ma è anche colui che umilia, colui che si vendica, colui che danneggia. Infatti, gli attributi dolci, gli attributi terribili, ci sono in quanto è una caratteristica della divinità unire i contrari. Cioè, Dio per i musulmani è misericordioso, perdona, è fedele, non tradisce, è paziente, è dolcissimo, tutti attributi positivi. Ma Dio è anche un Dio esigente, ecco in che senso si umilia, si vendica, eccetera. Alcuni musulmani pregano recitando i 99 nomi di Allah, sgranando una corona di 99 grani. Guardate sulla destra questa corona che spesso i musulmani usano per meditare questi 99 nomi di Dio. È una corona che è chiamata in diversi modi, a seconda dei vari dialetti dell'arabo o delle varie lingue dei paesi in cui viene usato. Si chiama questa corona Tasbì o Tesbì o in altri modi. Ora, il fedele musulmano, sgranando questa corona, che può essere o di 99 grani oppure di 33 grani, quindi la usa tre volte, è un mezzo appunto per meditare i 99 nomi di Allah. I nomi di Allah Allah dice nel Santo Corano Ad Allah appartengono i nomi più belli, invocatelo con quelli. Corano, Sura 7, versetto 180 Abu Huraira riferì che il profeta Mohammed, pace e benedizione su di lui, disse Allah ha 99 nomi, cento meno uno. Tutti coloro che li riterranno nella memoria entreranno in paradiso. I nomi di Allah sono questi colui al di fuori del quale non c'è altro Dio, il compassionevole, il misericordioso, il re, il santo, la pace, il fedele, il custode, l'eccelso, colui che costringe al suo volere, il cosciente della sua grandezza, il creatore, colui che dà inizio a tutte le cose, colui che dà forma a tutte le cose, colui che tutto assolve, il dominatore supremo, il munifico, colui che provvede. 2. I musulmani credono nell'esistenza degli angeli. Esistono gli angeli ma, secondo l'Islam, non hanno titolo per ricevere culto e senza il potere di fare grazie. Cosa vuol dire? Vuol dire che per i musulmani non bisogna pregare gli angeli perché non possono fare delle grazie Alcuni angeli sono messaggeri di Dio e profeti L'arcangelo Gabriele, chiamato Jibril in arabo, è il più importante degli angeli Vedete nell'immagine, vedete nell'immagine, a sinistra, con il volto coperto e avvolto da una fiamma, quello è Mohammed, il profeta Maometto. A destra, quello è Jibril, il più importante degli angeli. Inoltre, secondo i musulmani, esiste Satana, esiste questo angelo cattivo 3. Credere che il Corano sia la rivelazione di Dio 3. Credere che il Corano sia la completa, totale e definitiva rivelazione di Dio Seguite il ragionamento che fanno i musulmani Secondo i musulmani Dio avrebbe fatto scendere, cioè avrebbe inviato agli uomini Un primo libro, la Torah Attraverso il profeta Mosè Destinata al popolo di Israele Ma gli uomini avrebbero alterato, cioè modificato, falsificato questo testo Quindi, secondo i musulmani, la vera Torah, quella inviata da Dio, non esisterebbe più A questo punto, secondo i musulmani Dio avrebbe inviato agli uomini quindi un secondo libro per dare una seconda possibilità agli uomini Dio avrebbe così inviato il Vangelo Attraverso il profeta Gesù per i suoi discepoli Ma anche in questo caso, secondo i musulmani Gli uomini avrebbero modificato, falsificato questo testo E quindi il Vangelo originale, il Vangelo inviato da Dio Non esisterebbe più A questo punto Dio avrebbe dato agli uomini una terza possibilità E avrebbe inviato il Corano Attraverso il profeta Maometto Questa volta gli uomini non avrebbero modificato, falsificato questo testo Quindi, per i musulmani Dio ha mandato la Torah Ma gli uomini l'avrebbero modificata A questo punto Dio avrebbe mandato il Vangelo Ma gli uomini avrebbero modificato anche questo Dio, in quanto è paziente, avrebbe mandato un terzo libro, il Corano Gli uomini non lo avrebbero modificato Ecco perché, secondo i musulmani Il Corano contiene la completa, totale e definitiva rivelazione di Dio E il Corano va quindi a correggere quello che c'è scritto nella Torah e nel Vangelo E' chiaro che questo è il punto di vista dei musulmani Gli ebrei non sono d'accordo nell'affermare che la loro Torah non è quella mandata da Dio Così come i cristiani non sono d'accordo nell'affermare che il Vangelo che loro possiedono Non sia quello mandato da Dio Quarto punto della fede di un musulmano Credere che Mohammed sia l'inviato e il profeta di Dio Per i musulmani, Mohammed è il più grande dei profeti Il più importante di tutti i profeti Perché è colui che è stato scelto da Dio per la sua definitiva rivelazione Mohammed è il più grande dei profeti Ma in ordine cronologico è l'ultimo dei profeti inviati da Dio Dopo di lui non ci saranno altri profeti Ma per i musulmani il fondatore dell'Islam non è Mohammed ma è Dio Se prendete un libro di storia scritto da un autore occidentale non musulmano Ci sarà scritto che l'Islam nasce con Maometto I musulmani fanno un altro ragionamento I musulmani dicono L'Islam non è un'iniziativa di un uomo di Maometto No, non l'ha inventato lui No, in questo senso per i musulmani Il fondatore dell'Islam non è Mohammed ma è Dio Così come per i musulmani Dio è l'autore del Corano Non Maometto Per i musulmani dietro il Corano non c'è semplicemente un uomo Ma c'è Dio Quindi Dio è l'autore del Corano, non Maometto Quinto punto I musulmani credono negli altri 25 profeti ricordati nel Corano Per i musulmani Mohammed è il profeta più importante ma non è l'unico Il Corano parla di altri 25 profeti di cui fa i nomi Adesso li vedremo Dio si sarebbe rivelato nelle diverse epoche attraverso tanti profeti Infatti per i musulmani abbiamo detto Abbiamo detto che Maometto è l'ultimo profeta in ordine cronologico Quindi per i musulmani l'Islam è una religione che inizia da Adamo non da Mohammed Guardate lo schema Mohammed è l'ultimo profeta in ordine cronologico Prima di lui sono stati mandati tanti altri profeti Di molti addirittura non si sa neanche il nome Di 25 sì perché? Perché il Corano ci dice i nomi di questi profeti Quindi l'Islam per i musulmani è una religione che inizia addirittura da Adamo Maometto non è il fondatore Ma solo l'ultimo dei profeti Il più grande perché trasmette la rivelazione finale L'Islam secondo i musulmani è stato la religione di tutti i profeti A ogni epoca Dio avrebbe mandato un profeta a insegnare la sua via Ma ogni profeta non sarebbe stato ascoltato e sarebbe stato respinto Tutti i profeti hanno trasmesso una parte della rivelazione divina Mohammed è l'ultimo, l'ultimo messaggero Attraverso il quale Dio trasmette la rivelazione finale Interessante perché Maometto credeva che l'Islam fosse il compimento dell'ebraismo e del cristianesimo Cioè Mohammed era convinto che Ebraismo, cristianesimo e Islam Fossero una sola religione Rivelata in tempi e modi diversi Per adattarla ai vari popoli cui era destinata Guardiamo parte della Sura 57 E già abbiamo inviato Noè e Abramo E alla loro discendenza abbiamo accordato il dono della profezia e del libro Sulle loro orme abbiamo poi mandato L'un dopo l'altro i nostri messaggeri E' Dio che parla, no? E' Dio che sta dicendo che ha mandato Tanti profeti, ognuno per un'epoca storica E abbiamo mandato pure Gesù Figlio di Maria Gli abbiamo dato il Vangelo E nel cuore dei suoi seguaci abbiamo posto mitezza e misericordia Eccetera eccetera 5 Credere negli altri 25 profeti ricordati nel Corano Il Corano non parla soltanto del profeta Mohammed Il Corano parla di altri 25 profeti di cui fa i nomi Anzi Aggiunge che Dio avrebbe mandato migliaia di profeti Di cui Nella maggior parte non conosciamo i nomi Allora Di questi 25 profeti 22 sono profeti che compaiono anche nella Bibbia 3 Arabi Invece non compaiono nella Bibbia Maria Di cui parla il Corano Però non è considerata una profetessa Allora I 22 profeti biblici Cioè I 22 profeti Che compaiono Sia nel Corano Che nella Bibbia cristiana Sono quelli con l'alone in color fucsia Vedete che per ogni profeta c'è Il nome secondo la versione Diciamo araba per capirci E tra parentesi Il nome riportato nella Bibbia cristiana I 22 profeti biblici sarebbero Adamo Noè Enoch Abramo Ismaele Isacco Lot Giacobbe Giuseppe Mosè Aronne Davide Salomone Elia Eliseo Giobbe Giosuè Giona Zaccaria Giovanni Battista e Gesù Quindi Il Corano Parla di questi 22 profeti Quindi anche di Gesù Poi Nel Corano Si parla anche di Maria Madre di Gesù Madre del profeta Gesù Ma come ho già detto Maria non viene considerata una profetessa Quindi non fa parte del numero 25 A questi 22 profeti biblici Bisogna aggiungere questi tre arabi Di cui la Bibbia non parla Quindi in totale Il Corano fa i nomi di altri 25 profeti Oltre chiaramente a Mohammed Bisogna ricordare la differenza Nell'Islam tra il termine profeta E il termine messaggero Profeta è colui che riceve una rivelazione per gli uomini Adamo è un profeta Abramo è un profeta Quindi Profeta vuol dire un tramite Tra Dio e gli uomini Dio dà un messaggio Una rivelazione al profeta E il profeta la fa conoscere agli uomini L'inviato invece O messaggero È colui che riceve una rivelazione tramite libro per gli uomini Quindi Dio secondo i musulmani Avrebbe consegnato una rivelazione tramite libro a Mosè La Torah Quindi Mosè è un inviato messaggero Anche Gesù lo è Dio gli ha consegnato il Vangelo E anche Mohammed Apriamo una parentesi per quanto riguarda la figura di Gesù di Nazareth Cosa dice il Corano su Gesù? E quindi cosa credono i musulmani riguardo a Gesù? Ecco un po' una sintesi Per i musulmani Gesù è un uomo giusto Lo dice il Corano Gesù viene presentato come autore di miracoli O meglio Gesù ha compiuto miracoli ma col permesso di Dio Cioè Gesù è solo un uomo E' Dio che ha fatto i miracoli attraverso di lui Gesù è frutto di una nascita miracolosa Cioè senza padre Ovvero anche i musulmani Credono che Dio sia intervenuto E abbia compiuto e abbia compiuto un miracolo Facendo nascere l'uomo Gesù Il profeta Gesù Senza che sua madre Maria abbia fatto l'amore con un uomo In questo senso Gesù per i musulmani è frutto di una nascita miracolosa Gesù viene presentato dal Corano come servo di Dio Abbiamo detto Gesù per i musulmani è profeta In quanto Dio Dà a Gesù una rivelazione per gli uomini Ma non è soltanto profeta E' anche messaggero o inviato In quanto la rivelazione che Gesù dà agli uomini È una rivelazione tramite libro I Vangeli Gesù per i musulmani è Messia Però attenzione Quando i musulmani Dicono che Gesù è Messia Non lo intendono con lo stesso significato dei cristiani Cioè Quando i cristiani Dicono che Gesù è il Messia Intendono che Gesù è colui Che Dio avrebbe mandato per salvare l'umanità Invece i musulmani I musulmani Affermando che Gesù è il Messia Non intendono dire che è il Salvatore Che è il Redentore I musulmani Dicendo che Gesù è il Messia Intendono dire che è unto Consacrato Come i profeti Oppure intendono dire È colui che è toccato dalla benedizione di Dio O ancora È colui che tocca i malati E li guarisce Cioè Che fa i miracoli Ancora Altri intendono Quando parlano di Gesù e Messia Colui che è stato toccato dall'ala di Gabriele Al momento della nascita Per proteggerlo dal contatto impuro di Satana Insomma Per i musulmani Gesù è Messia Ma non è in questo senso Redentore o Salvatore Semplicemente è scelto da Dio Unto Consacrato Gesù è figlio di Maria Questa espressione presente nel Corano Viene usata per sottolineare che Gesù è solo un uomo Infatti per i musulmani Gesù non è figlio di Dio Non è la seconda persona della Trinità che si è fatta uomo Come dicono i cristiani Questa è una differenza essenziale tra Islam e Cristianesimo Per i cristiani Gesù è uomo e Dio È Dio che si è fatto uomo È il figlio di Dio Ho detto in un altro modo Per i musulmani no Anche perché i musulmani fanno questo ragionamento Dio non può avere figli Perché ciò significherebbe unirsi fisicamente a una donna Cioè come fa Dio a unirsi a una donna? È spirito? È immateriale? Aggiungendo qualcos'altro Diciamo che per i musulmani Non è figlio di Dio Nel senso In creato Eterno come il padre Ma nel senso Ha una relazione speciale con Dio È una creatura senza padre Per i musulmani Gesù non è Dio Per ultimo Secondo il Corano Quindi secondo i musulmani Gesù non sarebbe morto in croce Le versioni sono diverse Secondo alcuni Si è sostituito A Gesù un sosia Prima Della morte in croce Oppure Hanno ucciso Qualcuno che gli somigliava Forse Giuda Forse Barabba O un certo Sergio Altri invece Nello spiegare Cosa vuol dire Che Gesù Non sia morto in croce Dicono La crocifissione di Gesù Fu un'illusione Voluta da Dio Cioè Sembrava Che Gesù fosse stato crocifisso Ma non fu così Secondo altri invece Gesù sarebbe solo Svenuto in croce E una volta deposto E guarito Sarebbe morto in India Quindi abbiamo Diverse versioni Comunque Secondo i musulmani Gesù Profeta Gesù Non è morto in croce O hanno crocifisso Un sosia O comunque Uno che gli somigliava O Semplicemente è svenuto E l'hanno creduto morto Oppure Gli uomini hanno capito male Quindi Queste Sono le cose Che credono I musulmani In sintesi Sul profeta Gesù Ho appena sintetizzato Cosa dice Il Corano Sulla figura Di Gesù Dobbiamo però adesso Con un po' di pazienza Leggere Alcuni testi Del Corano Andiamo direttamente Ai testi Sono testi Che chiaramente Parlano Del profeta Gesù Il primo riguarda La famosa annunciazione L'annuncio a Maria Della nascita di Gesù Sura 3 E ricorda Quando gli angeli dissero A differenza della Bibbia Non c'è un solo angelo Che porta l'annuncio a Maria Qui sono Diversi E ricorda Quando gli angeli dissero O Maria In verità Dio ti ha prescelta Ti ha resa pura E ti ha eletta Su tutte le donne Del creato O Maria Sii obbediente Al tuo Signore Prostrati E inchinati Con quelli Che si inchinano Davanti a Dio Questa è una Della notizia Del mondo invisibile Che noi ti riveliamo Tu infatti Non eri presente Con loro Quando gli ebrei Tirarono a sorte Con le cannucce Per sapere Chi di loro Si sarebbe preso Cura di Maria Ne eri con loro Quando ne discutevano L'episodio delle cannucce Il testo del Corano Fa riferimento A un brano Che è presente In un Vangelo apocrifo In cui a un certo punto In questo testo Si racconta Che Giuseppe Viene scelto Per prendersi Cura di Maria Attraverso appunto Un Tirare a sorte Con delle cannucce E ricorda Quando gli angeli Dissero a Maria Oh Maria In verità Dio ti dà Il lieto annuncio Di una parola Che proviene Da lui Il suo nome Sarà il Messia Gesù Figlio di Maria Illustre in questo mondo E nell'altro E' uno dei più vicini A Dio Egli parlerà Agli uomini Fin dalla culla Come un adulto E sarà uno Dei giusti Maria rispose Signore Come potrò avere Un figlio Se nessun uomo Mi ha toccata Proprio così Disse l'angelo Adesso è diventato Un angelo Prima Si parla di più angeli Poi si parla di un angelo solo Dio crea Ciò che vuole Quando decide una cosa Non ha che da dirle sì Ed essa è Attraverso Le Frasi Evidenziate Vengono fuori Appunto Tutte le informazioni Su Gesù E' figlio di Maria E' solo un uomo Non è figlio di Dio E' illustre E' uno dei più vicini a Dio Compirà dei miracoli O meglio Dio attraverso di lui E' un giusto Quel nessun uomo Mi ha toccata Appunto Va interpretato Come Maria Rimane incinta Senza aver fatto L'amore con Giuseppe In modo miracoloso Dopo aver letto Come il Corano Narra L'annunciazione Quindi Dio manda Un angelo A dire a Maria Che avrà un figlio Andiamo a vedere Come il Corano Racconta La nascita Di Gesù La Sura 19 Maria dunque Concepì il bambino E si appartò Con lui In un luogo Lontano Le doglie Del parto La spinsero Vicino Al tronco Di una palma Il contesto E' diverso E' un contesto Arabo Ecco la palma Oh Disse Fossi morta Prima Fossi una cosa Dimenticata Del tutto Dimenticata La chiamò Allora Una voce Di sotto la palma Non rattristarti Il tuo Signore Ha fatto sgorgare Un ruscello Ai tuoi piedi Scuoti Verso di te Il tronco Della palma E questa Farà cadere Su te Datteri Freschi E maturi Mangione dunque Bevi E consolati E se vedi Qualcuno Digli In verità Ho fatto voto Al clemente Di digiunare E non parlerò Oggi Con nessun uomo Andò quindi Dai suoi Col bambino Portandolo Con sé E quelli Dissero Oh Maria Hai fatto Una cosa Mostruosa Evidentemente Qui va interpretata Questa frase Come La gente Crede Che Maria Abbia Tradito Il suo Fidanzato Suo marito Oh sorella Di Aronne Tuo padre Non era Un uomo Malvagio Né tua Madre Donna Dissoluta Maria Indicò Loro Il bambino Ma Quelli Dissero Come Possiamo Parlare Con un Bambino Ancora Nella Culla Ma Il bambino Disse Qui il bambino Parla Nella versione Del corano Gesù Appena nato Parla Quindi c'è un miracolo Ma il bambino Disse In verità Io sono il servo Di dio Che mi ha dato Il libro E mi ha Costituito Profeta Eccole qui Tre caratteristiche Di gesù Per i musulmani È servo Di dio È inviato Un messaggero Ed è profeta Mi ha benedetto Ovunque mi trovi E mi ha prescritto La preghiera E l'elemosina Finché sarò in vita Mi ha reso dolce Con mia madre Non mi ha fatto Prepotente Né scellerato Pace su di me Il giorno in cui son nato Il giorno in cui morrò E il giorno in cui Sarò risuscitato A vita Questo è Gesù Figlio di Maria Eccola l'espressione Con la quale Si vuole sottolineare Gesù È solo il figlio di Maria Non è figlio di dio È solo un uomo Parola di verità Di cui alcuni Dubitano Non si addice A dio Prendersi un figlio Ancora Quindi Non è figlio di dio Gloria a lui Quando egli decide una cosa Basta che le dica Sì Ed essa è In verità Dio è il mio signore È il vostro signore Adoratelo dunque Questa volta Vediamo un testo In cui Il corano Nega la divinità Di Gesù La sura 5 Certo Sono miscredenti Quelli che dicono Il messia Figlio di Maria È dio Mentre invece Il messia ha detto O figli di Israele Adorate dio Mio e vostro signore Chi adora altre divinità Insieme a dio Dio gli chiuderà Le porte del paradiso Sua dimora Sarà il fuoco E gli iniqui Non troveranno Chi li aiuti Sono miscredenti Quelli che dicono In verità Dio È il terzo di tre Mentre invece Non c'è Altra divinità Se non Un dio solo Il messia Figlio di Maria Non è che Un messaggero Di dio Come gli altri Che furono Prima di lui E sua madre Era una santa Ma entrambi Mangiavano Come tutti gli altri Il corano Nega La divinità Di gesù Gesù è messia Ma non Nel senso Di salvatore Come credono I cristiani È l'unto È scelto Da dio È figlio di Maria È solo un uomo Non è dio Non è il terzo Di tre Non c'è altra divinità Se non in un dio solo Gesù è Messaggero Di dio Vediamo Vediamo invece Adesso La sura 4 Che parla Del fatto Che Gesù Non è morto In croce Gli ebrei Sono davvero Miscredenti Hanno detto Contro Maria Una calunnia enorme E affermano Abbiamo ucciso Il messia Gesù Figlio di Maria Messaggero di Dio In realtà Non l'hanno Né ucciso Né crocifisso Ma qualcun altro Fu reso Ai loro occhi Simile a lui Quelli poi Che sono in disaccordo Su questo punto Hanno dubbi Al riguardo Non sanno nulla Di preciso E non seguono Che una semplice Congettura In verità Essi Non lo hanno Ucciso Ma Dio Lo ha Innalzato A sé Dio è potente E saggio Ecco Il Corano Dice Il profeta Gesù Non è stato Crucifisso Non è stato Ucciso Ma qualcun altro Fu reso Ai loro occhi Simile A lui Cosa Vuol dire Questo Versetto Beh Qui I commentatori Musulmani Dicono cose diverse Abbiamo già visto Qualcuno dice Vuol dire Che Hanno Crucifisso Un sosia O uno Che gli somigliava Oppure Qualcun altro Dice No Hanno Crucifisso Gesù Che è svenuto Lo hanno deposto Credendolo morto Ma poi si è ripreso Infine Altri Dicono La Crucifissione Di Gesù È stata Soltanto Un'illusione Che Dio Ha data Agli uomini La parte evidenziata in verde Invece Il versetto 158 Cosa vuol dire Ma Dio Lo ha Innalzato A sé Qui Si parla Della Assunzione Di Gesù In cielo Gesù È andato in cielo Allora I commentatori Musulmani Per quanto riguarda L'assunzione Di Gesù In cielo Anche qui Sono divisi Qualcuno dice Prima Gesù È morto Anche se non In croce E poi È stato assunto In cielo Mentre altri Commentatori Dicono No Gesù È salito In cielo Ancora vivo Anche sul fatto Se Gesù Sia stato Assunto In cielo Solo con lo spirito O anche col corpo Anche qui I commentatori Hanno idee Diverse Insomma Il problema Della morte Dell'assunzione Di Gesù È lungi Dall'essere Risolto Sei I musulmani Credono Nell'ultimo giorno E nella vita ultima Cioè Anche i musulmani Credono Nell'aldilà Nell'esistenza Di una vita Oltre la morte In sintesi Dopo la morte C'è un primo interrogatorio Poi c'è la risurrezione Generale Di tutti E poi Il giudizio Definitivo E universale Questa è una sintesi Secondo la rivelazione Del Corano Nel giorno Del giudizio Dio Retribuirà Tutti gli uomini Risuscitati Secondo le loro azioni Anche i musulmani Credono Nell'esistenza Del paradiso Ma I musulmani Vedono Il paradiso In modo diverso Dai cristiani Per i cristiani Il paradiso È Innanzitutto Essere In comunione Con Dio Detto in modo diverso Vedere Dio Faccia a faccia Insomma Essere insieme A Dio Questo è Innanzitutto Il paradiso Per i cristiani Poi è anche Stare bene Stare con Tutte le altre anime Ma innanzitutto Per i cristiani Il paradiso è Stare con Dio Invece Nell'Islam Il paradiso È Un luogo Di piaceri umani Quindi Non è il luogo In cui si è In comunione Con Dio Questo perché Perché Nell'Islam Dio Rimane Assolutamente Trascendente Assolutamente Inaccessibile All'uomo È impensabile Secondo La mentalità Musulmana Che Dio E l'uomo Entrino In comunione No Dio è È altro Rispetto all'uomo È talmente Diverso E questo Non è possibile Per quanto riguarda La credenza Nell'inferno Anche I musulmani Credono Nell'inferno L'inferno Sarebbe un luogo Di tormenti Terribili Ma A differenza Dei cristiani L'inferno Può Non essere Per sempre Ricordo Che Secondo La visione Cattolica Almeno L'inferno È per sempre L'anima Diciamo così Che va All'inferno Vi rimane Per sempre Quindi Non c'è possibilità Di passaggio Dall'inferno Al paradiso Invece Nell'islam Il musulmano Peccatore Che va All'inferno Può dopo Andare In paradiso Quindi Non è un Inferno Definitivo L'unico Peccato Irremissibile Che Conduce All'inferno Per sempre È Non aver Creduto In Allah Quindi Un musulmano Non va All'inferno Per sempre Per sempre